Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Cristina Capoccitti ha soltanto 7 anni quando viene trovata senza vita dopo una notte di ricerche. È il 24 agosto del 1990, sono le 6 del mattino e ci troviamo a Case Castella, una frazione del paesino di Balsorano, al confine tra Abruzzo e Lazio. Il corpicino di Cristina viene recuperato dalle unità cinofile nei pressi di un boschetto di more vicino a casa sua alle pendici dei monti ernici. Alcuni cespugli spinosi accerchiano una piccola radura, poco scoscesa rispetto alla provinciale. Proprio lì c'è Cristina, esanime. La piccola indossa soltanto magliette e calzini, le scarpe e il resto dei suoi abiti vengono trovati vicino al corpo, mentre le sue mutandine sono sporche di sangue. Sul terreno viene individuata una grossa pietra accuminata, anche quella macchiata di sangue. Si tratta, senza ombra di dubbio, dell'arma del delitto che l'assassino ha usato per uccidere la piccola. Si sospetta dunque che l'omicida conosca bene quei luoghi e che abbia tentato di farle violenza intima. Cristina è soprannominata Biancaneve per il suo aspetto candido e i capelli scuri. Proviene da un piccolo paese attraversato da una scalinata che separa una manciata di case per un totale di 20 famiglie, tutte imparentate tra loro. Come emerge dall'autopsia, chi le ha tolto la vita non è riuscito a violarla, ma l'ha soffocata per circa 6 o 7 minuti, lasciando un'evidente impronta della sua mano destra sul collo di Cristina. La piccola è morta tra le 20 e 30 e le 20 e 45. La comunità di Balsorano è senza parole e rifiuta l'idea che a spegnere la vita di Cristina sia stata una persona del luogo. La belva è di fuori, dicono. Così le indagini, almeno inizialmente, puntano a cercare il colpevole all'esterno di quella piccola realtà, sviluppandosi ad ampio raggio. Tuttavia, gli inquirenti alla fine intendono circoscrivere le ricerche a case Castella, visto che i genitori di Cristina, Giuseppe e Dina, riferiscono che la bimba non si sarebbe mai e poi mai allontanata con uno sconosciuto di sua spontanea volontà. Le avevano insegnato a non fidarsi di nessuno. Gli investigatori, infatti, ipotizzano che Cristina conoscesse bene il suo assassino, tanto che lui era riuscito ad attirarla in quell'anfratto. Cristina era scomparsa la sera prima, quando, dopo essere rientrata per l'ora di cena, aveva detto di non avere molto appetito. Così, aveva preso uno yogurt ed era uscita di nuovo per andare a giocare. Erano le 20 e 20 di sera. Ai genitori aveva ripetuto un paio di volte Non ci chiamate, so io a che ora tornare. E da qui c'è da domandarsi Perché Cristina ha usato il plurale? Chi c'era insieme a lei che i suoi genitori non avrebbero dovuto chiamare? Dunque, chi è l'ultima persona che l'ha vista? Sparita nel buio della notte, la bimba è stata cercata in primis dalla mamma, che ha invocato disperatamente il suo nome fino all'alba, setacciando il borgo e le campagne. Poi, come detto, la piccola viene ritrovata, senza vestiti o comunque semi nuda, e con la testa spaccata da un sasso. I carabinieri e la polizia convocano e interrogano tutti gli abitanti del piccolo paese. Avvalendosi del dato fornito dall'esame autoptico, che indica che Cristina è morta tra le 20.30 e le 20.45, risalgono al fatto che l'ultima persona ad averla vista è suo cugino. Si chiama Mauro Perruzza, ha 13 anni, ed è il figlio della sorella del papà di Cristina. Gli inquirenti lo interrogano e lui spiega di aver visto la cuginetta nel tardo pomeriggio. Le aveva aggiustato la bicicletta, poi entrambi erano rimasti a giocare nella piazza del borgo fino alle 21. A quell'ora, racconta Mauro agli inquirenti, lui si era diretto a casa, mentre Cristina si era incamminata verso l'abitazione di una sua amica di nome Sara. L'attenzione degli inquirenti si concentra su Mauro, soprattutto perché la sua versione sventirebbe l'orario della morte di Cristina. Il tredicenne dice di averla vista l'ultima volta alle 21, quando la bambina risulta già deceduta. Inoltre gli investigatori capiscono che Mauro ha mentito, perché Sara, l'amica da cui la piccola si sarebbe diretta dopo averlo salutato, in quel momento non era valsorano. E a detta dei genitori di Cristina, la figlia, lo sapeva e come. Nonostante queste incoerenze, le indagini proseguono ad ampio raggio, senza trascurare nessuna pista. Passano appena tre giorni dal delitto, quando c'è un primo colpo di scena. Si rifonde la notizia che, alle 22.40 del 26 agosto, sia domenica sera, Mauro Perruzza, nuovamente convocato nella caserma dei Carabinieri come testimone, d'improvviso davanti al pubblico ministero, ha confessato. Cristina l'ha uccisa lui. Mauro racconta che intorno alle 20.30 Cristina lo aveva invitato ad andare nel boschetto, perché egli voleva mostrare degli animaletti. Una volta lì, sostiene Mauro, inaspettatamente Cristina si era tirata giù i pantaloni e le mutandine da sola. Lui sottolinea di averla rimproverata per quel gesto. Allora Cristina si era spaventata ed era corsa via. Nell'allontanarsi era inciampata nei pantaloncini, era caduta, aveva sbattuto la testa su un sasso ed era svenuta. Mauro riferisce che alla vista del sangue aveva perso completamente il controllo. Gli aveva stretto la mano destra attorno al collo fino ad ucciderla. È finita, ce l'abbiamo fatta, il ragazzo ha confessato e abbiamo anche parecchi riscontri oggettivi. Sì sì, è tutto averbale. Questo è quanto Mario Pinelli, il sostituto procuratore di Avezzano, dichiara ai microfoni del TG3 Abruzzo, poco prima di mezzanotte. Poi lascia Bassorano dove una folla inferocita vuole linciare il tredicenne. Mauro Perruzza viene indagato, ma siccome è minorenne, viene subito portato ad Avezzano, sia per motivi di ordine pubblico, sia per essere ascoltato dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori dell'Aquila. Durante l'interrogatorio, in assenza del suo avvocato e dei genitori, Mauro conferma di aver ucciso Cristina, ma cambia la versione dei fatti. Dichiara che non era stata Cristina a invitarla nel boschetto, ma che era stato lui a convincere la bambina a seguirlo, perché voleva fare violenza su di lei. Sostiene di averla spinta affinché si stendesse a terra, ma Cristina aveva battuto la testa contro un sasso. Mauro riferisce di aver provato comunque a sfilarle calzoni e mutandine. Poi resosi conto che era svenuta la strangolata per evitare che raccontasse l'accaduto alla madre. Infine racconta di aver preso il corpo e di averlo gettato in un cespuglio, proprio con il fine di nasconderlo. Mauro, nella stessa notte ma a distanza di tre ore, si autoaccusa, cambiando la versione dei fatti. Poi, alle 2.30, il capitano della compagnia dei carabinieri di Tagliacozzo esce dagli uffici della Procura della Repubblica, dove si sta effettuando l'interrogatorio. Trafelato, dice i giornalisti, fermi tutti, il ragazzo ha ritrattato, bloccate i giornali, la tv, per carità. Ma ormai è troppo tardi. La notizia della confessione, giunta proprio al momento di andare in stampa, non può essere rettificata. È accaduto che Mauro, nel ripercorrere gli eventi, si è tradito. Ha precisato, tra le altre cose, di aver strozzato la piccola con la mano sinistra, perché mancino, mentre l'autopsia aveva evidenziato l'impronta di una mano destra. I conti, quindi, non tornano. Il ragazzo, ormai stanco, comincia a far neticare, cambiando versione di continuo. Pensate che, al termine dell'iter giudiziario, risulteranno 17 versioni fornite da Mauro, 10 delle quali ufficiali. La versione ritrattata, comunque, lascia tutti a bocca aperta. Mauro sostiene di non essere lui l'assassino, di essersi inventato tutto, perché a uccidere Cristina era stato suo padre, Michele Perruzza. Così, ecco che comincia a delinearsi la nuova sagoma del mostro di Balsorano. Mauro sa che il colpevole è suo padre, perché, alle 21 e 30 di quella sera, lo aveva visto rientrare in casa, in lacrime, addolorato per la perdita di Cristina. Tuttavia, l'uomo non poteva essere a conoscenza della morte della piccola, perché l'allarme verrà dato soltanto dopo le 22. Sono ormai le 4 e 20 del mattino, quando Mauro fornisce un'ulteriore nuova versione. Racconta che stava aggiustando la bicicletta di Cristina, quando aveva visto il padre portare via con sé la cuginetta, tenendola per mano. In curiosito, li aveva seguiti e spiati, e aveva visto il padre uccidere Cristina. Mauro spiega di essersi autoaccusato, proprio per aiutare il genitore. Quando suo padre era stato portato via da due carabinieri per un interrogatorio, lui ne era rimasto turbato. Insomma, credeva fosse giusto attribuirsi la colpa del delitto al posto suo. Conosceva già la verità, anche se le autorità competenti stavano interrogando tutti gli abitanti di Case Castello. Era sua intenzione dire la verità alla polizia, ma aveva troppa paura di danneggiare il padre. Sono ormai passate le 4 del mattino, quando Michele Perruzza, accompagnato dalla moglie Maria Giuseppa Capoccitti, viene prelevato e condotto in procura. Da subito Michele si dichiara innocente, ma ad aggravare la sua posizione c'è la testimonianza della moglie. Interrogata la stessa notte dal pubblico ministero, la donna conferma la versione di suo figlio Mauro. Dichiara che il marito la sera del delitto era arrivato a casa intorno alle 21.30 e, piangendo, aveva detto che Cristina era morta. Michele aveva raccontato alla consorte che poco prima aveva condotto la piccola Cristina in un posto isolato, non distante, e che a bimba era morta. Questo è un colpo fatale che Maria Giuseppa Capoccitti e suo figlio Mauro assestano sul destino di Michele, marito della donna e padre del ragazzo. Quando alle 6.30 del mattino Mauro Perruzza lascia la procura della Repubblica di Avezzano in compagnia della madre, tutti lo credono un eroe, perché voleva sacrificare se stesso per salvare suo padre. Però i giornali erano già andati in stampa e avevano diffuso la notizia che quel ragazzino goffo di 13 anni era colpevole dell'omicidio di Cristina, nonostante abbia poi ritrattato. Tuttavia i risvolti inaspettati nella lunga notte al Tribunale dei Minori ribattezzata e poi la notte dei misteri non sono finiti. C'è l'enigma di un'audiocassetta sparita che darà origine a un'inchiesta della procura di Avezzano e si concluderà con l'incriminazione di due poliziotti accusati di aver reso false dichiarazioni sulla vicenda al PM. Gli avvocati difensori di Michele Perruzza sostengono fermamente che l'audiocassetta scomparsa conteneva sia la prima autoaccusa di Mauro sia l'accusa rivolta al padre. Ritengono che fosse un elemento fondamentale perché, analizzando la voce del ragazzo, si poteva tentare di capire i motivi della sua metamorfosi. Che quella cassetta esiste spiegano i legali della difesa è certo. Lo ha detto Michele Perruzza dichiarando durante un interrogatorio. Mi hanno fatto ascoltare le accuse di mio figlio contro di me, ma non solo. Lo affermano anche altri testimoni. Il mattino seguente alla Notte dei Misteri, il magistrato riconvoca i giornalisti per la clamorosa rivelazione. Il probabile responsabile della morte di Cristina non è il minore, ma colui che il tredicenne voleva difendere, ossia suo padre. Da questo momento Michele Perruzza è ufficialmente il mostro di Balsorano. All'epoca l'uomo ha 40 anni ed è un gran lavoratore e fa il contadino, in più lavora anche a Roma come muratore. Viene descritto effettivamente come un tipo burbero e schivo. Mentre era emigrante in Australia, aveva sposato per procura Maria Giuseppa Capoccitti, la sorella del papà di Cristina. La coppia aveva avuto tre figli. Quindi quest'uomo un po' scontroso e riservato si ritrova a essere appellato come mostro, proprio a causa delle testimonianze della sua famiglia. Tuttavia, quasi nello stesso momento, il cosiddetto giallo di Balsorano si infittisce con un ulteriore colpo di scena. Stavolta è Maria Giuseppa Capoccitti, la moglie di Michele Perruzza, che ritratta, dicendo di essere stata quasi costretta ad accusare il marito. Era stata messa di fronte a una scelta, salvare suo marito o suo figlio. E lei aveva deciso di preservare il figlio, ma poi ritratta l'accusa ai danni del marito. Da questo momento in poi lo difenderà sempre, senza però mai accusare neanche il figlio. In un'intervista racconta, A causa di questa storia, Maria Giuseppa viene ripudiata dal marito Michele e dalla sua famiglia, la quale afferma che la donna non è degna di portare il loro cognome. Inoltre il figlio Mauro viene allontanato anche dalla mamma e dato in affido a un'altra famiglia, seguito da un assistente sociale. Per gli inquirenti, l'accusa di Mauro rimane credibile. Aveva coperto suo padre perché temeva che finisse nei guai. Quindi il pubblico ministero dispone una perquisizione a casa Perruzza. Vengono rilevati due elementi interessanti, a cominciare da una canottiera di Michele trovata nella cesta dei panni sporchi, esaminata da più esperti. Inizialmente nulla viene rilevato, ma in un secondo momento si rinvengono dei capelli di Cristina sulla canottiera. Risultano strappati perché tuttora ancorati al bulbo. È possibile che qualcuno li abbia sistemati lì in un secondo momento? Altri capelli vengono individuati accanto e dentro la lavatrice, al piano terra, e viene fatta un'ispezione anche al primo piano, su una parte del tetto all'esterno della finestra del bagno. Proprio su quel tetto viene scoperto il secondo elemento rilevante, le mutande che l'assassino aveva sicuramente addosso quando ha ucciso Cristina, in quanto sporche del sangue della piccola. La moglie di Michele però fa notare che padre e figlio utilizzano la stessa biancheria intima. A essere più precisi, su quel tetto, come risulta dal verbale di perquisizione, vengono trovate tre paia di mutande e non soltanto uno. Il primo slip, quello protagonista delle indagini, un secondo di ridotte dimensioni, così recita il verbale, e un terzo logoro e consumato dalle intemperie. Domanda, perché mai gli abitanti di Casa Perruzza si liberavano delle mutande sporche gettandole dalla finestra del bagno? Come accennato, pur trovando tre paia di slip, gli inquirenti decidono di repertarne soltanto uno. Perché le altre sono state scartate? In base a quali considerazioni? Inoltre il verbale di perquisizione non chiarisce l'esatta posizione in cui i tre capi intimi sono stati rinvenuti. In ogni caso, a questo punto, le autoaccuse di Mauro vengono archiviate mentre Michele viene arrestato. Sulla scacchiera del dibattito innocentisti e colpevolisti si fronteggiano. La comunità di Case Castella è ostile nei confronti di Michele e della moglie. Emergono delle maldicenze secondo le quali Michele ha da sempre una predilezione per gli adolescenti. In particolare, i due ragazzine vanno in procura dopo il suo arresto e raccontano che, quando l'uomo aveva circa 30 anni, erano stati oggetto di attenzioni da parte sua. Tuttavia, mai lo avevano denunciato in precedenza. Anche i genitori di Cristina sono certi che a uccidere la propria figlia è stato Michele, cognato del papà della b***a. Arriviamo al 21 novembre del 1990, quando Michele Perruzza viene rinviato a giudizio per aver ucciso, dopo un tentativo di violenza, la nipote Cristina Capoccitti. Per l'accusa a suo carico sono emersi gravissimi elementi di colpevolezza, tra cui l'accusa di suo figlio Mauro. Durante l'interrogatorio davanti alla corte d'assise in primo grado, proprio Mauro fa scena muta per la prima volta. A ogni domanda il ragazzo risponde non lo so, non ricordo, giustificando le contraddizioni delle precedenti dichiarazioni, con una lunga serie di ero confuso. Prima dell'inizio del processo, il collegio difensivo dell'indagato cambia. La moglie di Michele Perruzza, che in precedenza aveva conferito l'incarico agli avvocati Carlo e Mario Maccallini, affida la difesa del marito anche all'avvocato Leonardo Cascere. Costui in precedenza aveva difeso il tredicenne Mauro Perruzza nel procedimento parallelo aperto dal Tribunale dei Minori dell'Aquila, quando Mauro si era autoaccusato del delitto e dunque era indagato per lo stesso reato del padre. L'avvocato Leonardo Cascere era riuscito a far archiviare il procedimento a carico di Mauro senza che nemmeno fosse stata dimostrata l'innocenza del ragazzo. A questo punto gli avvocati Maccallini rimettono il mandato per difendere Michele Perruzza. La nomina non era stata concordata e loro vogliono preservare la propria indipendenza decisionale. Il 15 marzo del 1991 la Corte d'Assise dell'Aquila condanna all'ergastolo Michele Perruzza. La difesa durante il processo di primo grado si è rivelata fragile. L'avvocato Leonardo Cascere non poteva certo accusare il figlio di Perruzza, che lui stesso aveva difeso in precedenza. Così si è imbarcato nell'ipotesi di una terza via, considerata in netto contrasto con la verità, perché l'assassino è senz'altro uno dei Perruzza, altrimenti il ragazzino non avrebbe avuto motivo di confessare. O era stato lui, oppure aveva visto il padre uccidere Cristina. Tuttavia nessuno ha sollevato l'incompatibilità, quantomeno morale, del difensore, che ha compromesso il grado di giudizio. Alla lettura della sentenza l'aula del tribunale viene invasa dagli applausi e anche a casa e castella vengono preparati dei fuochi d'artificio. Sui giornali del giorno seguente risalta il titolo Festa per un ergastolo. Mentre si festeggia però è in atto un vero e proprio dramma familiare. Cristina è morta. Mauro, che ha accusato il padre del delitto della cuginetta, ha voltato le spalle ai propri genitori ed è stato adottato da una famiglia benestante. Intanto Michele Perruzza continua a orlare la sua innocenza. Al fianco lotta anche la moglie Maria Giuseppa Capoccitti che per il processo d'appello revoca il mandato all'avvocato Leonardo Cascere e affida l'incarico agli avvocati Attilio Cecchini e Antonio De Vita. L'avvocato Attilio Cecchini sostiene che quando lui e il collega hanno assunto l'incarico si sono immediatamente resi conto che Michele Perruzza non era l'assassino di Cristina Capoccitti. Hanno notato leggendo l'istruttoria dibattimentale di primo grado che il processo era ampiamente lacunoso e che la sentenza appariva fragile e attaccabile. In pratica non si era puntato sulla sostanza del processo sia sulle responsabilità di Mauro Perruzza. La difesa invece sostiene che andava recuperata la confessione di Mauro Perruzza il quale aveva detto la verità quando aveva ammesso di aver soffocato la piccola svenuta che era caduta su un macigno e si era spaccata la fronte. La ferita riportata dalla bimba era speculare rispetto al cavo del famoso macigno. Quindi l'attesi della difesa è che la bambina rincorsa dal cugino era caduta e aveva sbattuto la testa sul sasso. Era svenuta ed era stata successivamente soffocata da Mauro terrorizzato all'idea delle conseguenze che sarebbero scaturite. La difesa punta proprio sulle contraddizioni di Mauro che aveva cambiato versione ben 17 volte. Mauro che era il testimone chiave del processo sosteneva di aver assistito al delitto acquattato dietro dei cespugli nei pressi del muretto di contenimento. Successivamente è raccontato di aver visto la scena nascosto dietro una cabina dell'Enel. Poi cambia ancora versione dicendo di aver assistito all'omicidio dal solaio del capanno della porcilaia. È proprio durante questo processo che gli inquirenti tornano a Balsorano per una ricognizione al fine di valutare se le dichiarazioni di Mauro corrispondano alle condizioni obiettive dei luoghi. Ma l'accertamento avviene in inverno, in pieno giorno e sotto la neve. Aspetti che generano condizioni difforme rispetto al momento dell'omicidio di Cristina. In ogni caso il processo d'appello si chiude nel gennaio del 1992, confermando l'ergastolo per Michele Perruzza. Per i giudici della corte d'assesa d'appello dell'Aquila e successivamente per la corte di Cassazione, il mostro di Balsorano è lui. A questo punto gli avvocati difensori si aggrappano all'ultima possibilità per tenere aperto il caso. A seguito degli eventi che si sono verificati sui coniugi Perruzza, pende anche un'imputazione di accusa di calugna nei confronti del figlio perché lo avrebbe spinto ad autoaccusarsi dell'omicidio al posto del padre. Questo è un reato che va perseguito, quindi viene instaurato un processo che però passa in secondo piano. Se si riuscisse a dimostrare che quando Mauro si era autoaccusato stava dicendo la verità e quindi non era stato indotto ad autoaccusarsi, cadrebbe automaticamente l'accusa di assassino nei confronti di Michele Perruzza. Dunque la difesa insiste perché questo processo venga celebrato. Così nel giugno del 1997 si apre a Sulmona un nuovo processo che vede sul banco degli imputati Michele Perruzza e la moglie Maria Giuseppa Capoccitti, accusati di aver indotto il figlio Mauro a incolparsi dell'omicidio di Cristina per salvare il padre. Mauro infatti essendo minorenne non sarebbe stato imputabile. L'udienza è irta di tensione, la piccola sala del tribunale si riempie quasi fino a scoppiare. Tutti vogliono seguire l'evoluzione di una storia in cui è stato versato il sangue di una piccola innocente. Padre e figlio si ritrovano faccia a faccia, occhi negli occhi, per la prima volta dopo sette anni. E a dividerli è soprattutto la barriera dell'odio. Ti ho visto massacrare Cristina. Mauro accusa ancora una volta il padre dal banco dei testimoni. Scaglia parole che feriscono come coltellate. Michele, il cui volto è ormai dominato dai tic, storce la bocca in un sorriso nervoso e urla al figlio bugiardo! Nel suo stretto accento abruzzese. Dal fondo della sala interviene anche la voce di Giuseppe Cappucciti, il papà della vittima che grida, zitto assassino! Ma i legali di Michele Perruzza sono pronti a lottare per far luce sulla verità. Questo dibattito, come detto, doveva essere un procedimento secondario. Ha invece un effetto prorompente. Infatti in questa occasione il tribunale di Sulmona dispone ulteriori indagini, dalle quali emerge una serie di elementi di prova che indicherebbe l'innocenza di Michele Perruzza. Ricostruendo i fatti della notte dei misteri durante il processo di Sulmona, Michele Perruzza rivela che, quando era arrivato agli uffici della procura di Avezzano, gli investigatori lo avevano accolto urlando, tu sei il mostro, getta questa sigaretta, che per te sarà l'ultima! E gli avevano dato botte e spintoni. Michele in realtà racconta proprio che lo avevano picchiato a sangue. La moglie, balbettando davanti ai giudici di Sulmona, riferisce. Quella notte negli uffici della procura di Avezzano mi chiusero in una stanza, sola, con venti uomini, tra agenti e carabinieri. Mi cominciarono a urlare nelle orecchie e a dire che mi avrebbero tolto i miei due figli minori se non avessi firmato un foglio. E io lo firmai. Ecco dove ho sbagliato. Ma l'ho detto subito, un'ora dopo, che era tutto falso. Per questo fatto mio marito non ne ha voluto più sapere di me. Anche in occasione di questo processo viene avanzata la richiesta di effettuare una ricognizione sul luogo in cui Cristina era stata uccisa, stavolta realistica, con particolare attenzione alla prova della visibilità. La difesa si reca quindi a fare la ricognizione lo stesso giorno dell'anno e alla stessa ora con un'equipe di esperti nominata dal Tribunale di Sulmona. A distanza di sette anni dal fatto, per fortuna, le condizioni meteo e astronomiche coincidono con quelle del giorno del delitto, un evento più unico che raro. Questa osservazione fornisce la prova inconfutabile che, con le stesse condizioni meteo e astronomiche della notte dell'omicidio, la visibilità era pari a zero. Non si poteva vedere nulla. Come faceva Paolo a descrivere i movimenti del padre? L'altra perizia fondamentale disposta dal Tribunale di Sulmona riguarda la possibilità di indagare su ulteriori residui organici che erano stati trovati sulle mutande in casa di Michele Perruzza. Da questa analisi emerge che tali residui organici non potevano appartenere a Michele Perruzza, mentre c'è una corrispondenza con il figlio Mauro. Ciononostante, la prova non dà avvio alla revisione del processo, anche se viene ritenuta una prova granitica e inattaccabile, tanto che pure il pubblico ministero, sebbene faccia parte dell'accusa, richiede l'assoluzione di Michele Perruzza. Nel marzo del 1998 il Tribunale di Sulmona assolve Michele Perruzza e la moglie Maria Giuseppa Capociti, dall'accusa di aver indotto il figlio ad autoaccusarsi dell'omicidio di Cristina, ma Michele Perruzza resta in carcere. Eppure, sulla base dei clamorosi esiti del processo satellite, Michele Perruzza aveva diritto al processo di revisione. Questo caso fa insorgere parecchi dubbi sul fatto che possa essere stato condannato un innocente, mentre una persona artefice di evidenti contraddizioni gode di impunità, ammesso che il figlio sia il vero colpevole, chiariamo. Oggi Mauro è un uomo solido, non più un ragazzino impacciato. Alla luce della sentenza, gli avvocati di Michele Perruzza si battono per ottenere la revisione del processo, ma la richiesta viene rigettata dalla Corte d'Appello di Campobasso e successivamente dalla Corte di Cassazione. Nello specifico, la Corte di Appello di Campobasso ha esaminato l'istanza di revisione avanzata dagli avvocati di Michele Perruzza, che puntava su due argomenti. La perizia ambientale eseguita sul Mona esclude che Mauro Perruzza possa avere assistito alla scena dello strangolamento di Cristina da parte del padre. La seconda perizia esclude che lo slip insanguinato fosse stato indossato da Michele Perruzza. La revisione viene però respinta dalla Corte di Appello di Campobasso delle nuove prove. Nel senso che queste sono state ritenute insufficienti a incrinare il quadro probatorio. Il 24 gennaio 2003 Michele Perruzza muore per un infarto in cella a Re Bibbia. Si spegne urlando la propria innocenza. Dite a tutti che non sono stato io, sono le sue ultime parole, pronunciate sull'ambulanza che lo porta all'ospedale Pertini. Viene sepolto nel cimitero di Ridotti, a pochi passi dalla tomba di Cristina. I genitori della bambina, l'infermiere Giuseppe e la moglie Dina, subito dopo la tragedia, si erano trasferiti ad Avezzano. Mauro Perruzza, che era stato adottato da una famiglia abbiente di Gubbio, oggi conduce una vita serena. Vive con la moglie, ha un figlio piccolo e uno in arrivo. Tuttavia, a case Castella il tempo sembra essersi fermato a quella maledetta sera del 23 agosto. Lo scenario è identico a quello di allora. La casa dove abitavano i Perruzza versa in stato di abbandono. Non ci vive più nessuno da tempo. La nuova casa di Michele Perruzza, che all'epoca era in costruzione, è ferma a come è stata lasciata all'alba del 26 agosto, quando il muratore è stato portato presso gli uffici della procura di Avezzano, insieme alla moglie, Maria Giuseppa Capoccitti, che oggi vive in Emilia Romagna. In più di un'occasione, Michele Perruzza, provato dall'esperienza della detenzione, aveva riaffermato la sua innocenza e detto che avrebbe perdonato suo figlio Mauro per le false accuse, a lui rivolte, soltanto se qualcuno in passato lo aveva obbligato a mentire, come accaduto alla moglie. La prima vittima di questa straziante vicenda è la piccola Cristina, a cui è stato strappato il futuro, il diritto di crescere e realizzare i suoi sogni. Ma bisogna anche chiedersi, Michele Perruzza è stato un ergastolano innocente, simbolo di una giustizia che vacilla? Ragionevoli motivi di dubbio hanno accompagnato il controverso percorso giudiziario di questo caso, Michele è morto sotto il peso della sua gravosa condanna, ma la giustizia e la verità non dovrebbero conoscere le barriere del tempo. Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video, fatemi sapere se conoscevate questo caso degli anni 90, è vecchio 8 insomma, però a me ha colpito moltissimo, quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo caso qui sotto nei commenti, io sono curiosissima di leggervi, quindi come al solito io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici, basta che non faciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti!